Un impegno pluriennale nel mondo dell'igiene, tra l'altro del beauty, è quello che compie ed ha compiuto da anni GS Converting. Come Converting nasciamo nel 1984 come produttore di salviettine omedificate, proprio per questo negli ultimi anni abbiamo deciso di orientarci verso altri mercati, in particolar modo il toiletries persona, quindi l'igiene e cura della persona e anche in parte la cura del bucato. Come si è riconosciuti dal mercato per la nostra storia? A prescindere dalla qualità, quindi quando hai già una riconoscenza da parte del trade su quello che fai, diventa tutto più facile. Ecco, noi diciamo che abbiamo goduto di questa fama e da lì abbiamo aperto altre tipologie di mercato a noi nuove. I nostri laboratori di ricerca interni, dove lavorano 12 persone, si sono orientati alla scoperta del nuovo mercato bio. Abbiamo dei prodotti certificati, abbiamo una linea completa per l'igiene della persona, che è a marchio Sensore, che è certificata IC a cosmesi naturale. E poi abbiamo una linea, siamo gli unici oggi in Italia, ad avere una linea Ora Care, che comprende due tipi di colluttori, uno è il goji e l'altro a mente e liquirizia. E analogamente due dentifrici, più due dentifrici da viaggio, tutti certificati ICEA e co-bio. C'è una buona richiesta da parte delle catene distributive italiane, alcune si sono specializzate già a questa nuova richiesta del consumatore, altre un po' meno. Noi con questi prodotti riusciamo ad entrare in certe realtà, dove prima magari con le sole salviettine ci veniva precluso. Il brand Mr. Clean è un brand che è nato con Converting, però l'abbiamo declinato negli ultimi anni nel comparto dell'igiene della casa. A questo proposito, un paio di anni fa, un anno e mezzo fa, siamo usciti con un prodotto decisamente innovativo, che è un profumo a bucato, un profumo a biancheria, è un'essenza che viene inserita all'interno della lavatrice e profuma i bucati con un profumo persistente, lasciandoli comunque decisamente profumati e gradevoli per almeno una settimana di tempo. Tantissime consumatrici, perché ovviamente il mercato si divulge alle consumatrici, che fanno riferimento a questo prodotto dicendoci dove possono trovarlo. Stiamo facendo una distribuzione, per ora siamo distribuiti in qualche catena, però il nostro obiettivo è quello ovviamente di allargare questa distribuzione e coprire la totalità del mercato. Oggi i prodotti GF Converting trovano quale principale canale distributivo? Beh, oggi i nostri prodotti si possono trovare in quasi tutta la GD, quella più importante. Poi da qualche anno abbiamo anche sondato il mercato della farmacia con un discreto successo e le parafarmacie dove abbiamo dei concessionari. Lì il discorso è un po' più difficile perché ovviamente i numeri sono un po' più limitati. Però soprattutto con l'EcoBio, con i prodotti EcoBio, questo canale ci sta dando una buona redemption. Si dice che chi si ferma è perduto. Noi non vogliamo fermarci perché comunque siamo sempre in eterno movimento. Abbiamo un titolare che è attivissimo ed è la mente, il vulcano dell'azienda. Propone, non dico quotidianamente, ma quasi delle referenze. Ovviamente cerchiamo di andare dove va il mercato, prendiamo spunto da quello che chiedono i consumatori e spesso cerchiamo di aggiungere qualcosa in più.